E per me è stata una sorpresa. Io non sapevo che il vostro popolo avesse sofferto tanto. Si vede che questo popolo ancora ha memoria dei suoi martiri, di quelli che hanno sofferto tanto. Siamo in detto Dio Padre, Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione. Quello che hanno fatto questi due oggi.